Cosa fai domenica 8 maggio? La giornata diocesana a sostegno di Teleradiopace, un'occasione privilegiata per contribuire all'attività dell'emittente. Che cosa rappresenta questo momento e che cosa significa? Questo momento ricorda che Telepace è una televisione diversa da altre, non è una televisione commerciale, non siamo una televisione che ha come fine di realizzare utili da distribuire fra i soci o i proprietari, ma è una televisione di servizio, una televisione a servizio del Vangelo, a servizio delle persone e chiede aiuto a coloro per i quali presta questo servizio. Lo facciamo quotidianamente attraverso i quattro canali televisivi di Telepace 1, 2, 3 e 4, il canale radiofonico di Radiopace e il nostro sito internet, sempre più visitato tra l'altro, quindi sempre in crescita. E poi i canali di YouTube, i social network e questo strumento vive della provvidenza. C'è un aiuto della nostra diocesi di Chiavari, c'è l'aiuto dei tanti volontari che collaborano e di chi ci dà le risorse economiche per poter portare avanti il nostro progetto di comunicazione. Molte parrocchie hanno il pellegrinaggio a Montallegro e quindi sarà rimandato alla domenica successiva. Anche altri confratelli mi hanno detto, guarda, quel giorno abbiamo già la prima comunione, un altro impegno, lo faremo in un'altra data. Ecco, io vi ringrazio di averla anche spostata questa data. Certo, è un momento di fatica per la nostra emittente e chiediamo aiuto a tutti. Quello che noi facciamo, cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile, però alcune cose possiamo realizzarle solo se c'è qualcuno che ci aiuta, non bastano le nostre risorse perché le spese sono quotidiane, sono ingenti e quindi Telepace e TV comunitaria gli date voce anche voi con il vostro aiuto. Grazie. Domenica 8 maggio, ricordati di Teleradiopace.